Ciao a tutti ragazzi e bentornati o ben arrivati sul mio canale, io sono AlionXD e oggi sono qui per provare una cosa nuova Ultimamente su YouTube ho visto che molti stanno facendo le speedrun e quindi ho deciso che voglio provare a farne una anch'io Ho fatto varie prove tipo una decina di prove e solamente una volta sono riuscito ad andare al portale dell'end Dieci volte, gli altri nove sono morto in maniera penosa e visto che non sono molto bravo con i comandi Cioè gioco da Minecraft da circa due anni però sai non sono ancora fluido con i movimenti Quindi vediamo se riuscirò a... oddio, non dico a superare il record del mondo ma a meno a farmi un record personale di quanto tempo riuscirò Almeno ad arrivare nel ned, nel land, poi a uccidere il drago, si vedrà dopo Comunque spero che riuscirò a mettere un timer da qualche parte, ci proverò Allora, tre, due, uno, via Allora, sicuramente... ecco ho già perso un secondo, ecco Sto perdendo Quello che sentite sottofondo è il timer del telefono Ok, so che bisogna prendere dei letti, così facciamo fuori il drago velocemente Ho massimo cinque possibilità perché ho fatto cinque mondi diversi Tra poco mi sono... tra poco mi ricordo il si da memoria Che sicuramente dopo vi mostro, ecco questo è un modo molto veloce per attraversare subito il coso Qui ecco dove sono morto la prima volta facendo così perché non riesco a perdere sta fottutissima cesta E qui sto perdendo anche tempo Ecco qui ho perso sicuramente molto tempo, io metto l'armatura perché sono ancora un nabbo Qui devo fare attenzione a non mettere il blocco qua Qui devo fare così, qui devo creare il... l'acciarino Che avrò già dovuto farlo prima ma io sono un pillo e non l'ho fatto Qui salto, ok Ora qui ho avuto un po' di complicazioni Ma devo andare da questa parte di qua Sono morto anche nella lava un paio di volte Ma ecco di qua, dovremmo andare qui la strada, non me la ricordo mai Ti ricordo di qua, di qua, di qua Di qua, io conterò solamente... non lo so, si spera il tempo che ci metto ad arrivare al portale del land Siamo a 1 minuto e 44 secondi Ok, poi devo andare qua Questo sito sicuramente avreste già visto da qualche parte Ecco qui sto perdendo tempo, ho perso molto tempo Sto perdendo ancora tempo Qui sono morto una volta che mi ha ucciso uno scheletro No, no dai dai dai, non puoi fare così lo stronzo però Ok Ecco io, 1, 2 Molta complicazione qua Certamente in questo punto qua ci dovrebbe essere 1, 2 Ti prego dimmi che l'ho fatto all'altezza giusta Qui dovrebbe esserci il portale del land 1, 2, 3 E ho già smetto qualcosa, perché ho smetto qualcosa? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Non dimmi che non ho ricoperato il blocco che stava dentro la cesta Lì sì che l'ho ricoperato Nel inventario non ce l'ho Ma vaffa, ma non ci posso credere Ma l'ho pietato lì come un pirla E vabbè 4 minuti perché ho perso tempo facendo il portale 4 minuti per il primo Che vergogna Adesso riproviamo Ok adesso siamo qui al secondo mondo Vediamo un po' seconda prova Questa volta devo fare attenzione col portale del land Che è la strada, me la ricordo ancora nemmeno Adesso che siamo spawnati veramente in un punto che ci farà perdere tempo Perché prima ero lì e adesso sono qui Quindi inizio 3, 2, 1 Via Mi sto, cioè Mi sto veramente divertendo con queste spin run Perdo un sacco di secondi In alcuni punti Ok ma vedo che ne ho riguadagnato tantissimo Ok poi devo entrare in questa casa Per recuperare i 4 letti Ok 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 Dove sto andando? Ecco perso altri secondi Neanche il tempo di grattarmi il naso Che subito Perdo secondi Continuiamo a perdere tempo Qui prendo questo 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 Questa ce la mettiamo Non ho preso Non ho preso questo Questo lo craftiamo subito Eccolo qui Torniamo qua Ok allora Un pezzo qui Un pezzo qui Un pezzo qui Un pezzo qui Accendiamo il portale Teoricamente lo metto questo qua Stavano Sono dentro Ok Fatto questo Ho sbagliato lato Vado di qua Aia ho preso tempo Via Via Salto di qua Aia No il gasto no Per favore Please il gasto no Devo essere più fluido Nei movimenti Più fluido Faccio veramente schifo Dai almeno arrivare al land Almeno arrivare al land Per me sarà un obiettivo Ok dai siamo quasi arrivati Dobbiamo stare in questo punto qui Ormai mi ricordo La strada memoria Non ci credo Siamo a 1 minuto e 51 secondi In questo punto Prima non mi ricordo In che tempo eravamo Ma spero non ci siano I fruttutissimi scheletri Guardate se non sbaglio Ci sarebbe Un punto qui Ecco Ok Ci sarebbe un punto esatto Per mettere i cosi qua Allora 1 2 3 Ma perché mi manca sempre uno Non capisco 1 2 3 1 2 3 Questa volta ho fatto attenzione A questo punto mi manca sempre uno E sono sicuro che non l'ho messo lì Giuro che se l'ho messo lì Sono un coglione Sono un deficiente No 1 2 3 Ah ma perché io devo scavarli sopra Devo scavarli Eh sono un deficiente Sono un pirla 3 minuti e 17 secondi Più questa seconda prova Mi sono bloccato sempre Nello stesso punto 3 possibilità Questa volta siamo spavati Nel punto dove eravamo prima 3 2 1 Via Levati Ripeto Arrivare al land Per me sarà già un obiettivo Ossidiana ce l'abbiamo Oppure il ferro Ok Stavolta però voglio trovare un altro Modo Cioè giustamente Allora so che sto perdendo tempo Ma fidatevi di me Sono a 38 secondi So che ho perso tempo a prendere la cesta Ma fidatevi di me che C'ho una ragione Ok Ok la mia salva Ne serve Prendiamo questo Questo Il blocchetto qua Il piccone Questo qui Questo via Ho dimenticato questo Lo crafto subito Cerchiamo di fare un buon tempo Non voglio subito fare due minuti qualcosa Perché tanto non ce la faccio Qui faccio 1 2 3 Ecco Ho sbagliato Ho subito sbagliato Ho piaciuto un blocco in più Cioè io volevo salvarmi quel blocco Invece che l'ho fatto L'ho usato lo stesso Sono un deficiente E ho pure sbagliato strada Questa non è la strada solita che faccio Mi sono complicato Mi sto complicando la vita in questa terza parte Devo andare di qua Fare un salto di sopra Ho pure sbagliato un'altra volta Faccio di qua Aia Ok Ok Sono a Questo qui è veramente il tempo peggiore che ho fatto Sono a 2 minuti Cioè prima qui eravamo a un minuto e qualche seconda Adesso siamo a 2 minuti e 15 secondi Aiaiaiai No no va bene Allora Faccio cosa 1 2 3 1 2 3 4 Ho due pezzettini E non manca sempre uno Cosa ho sbagliato adesso Perché continuo a sbagliare Ma porca di quella Ma 3 minuti e un quarto Faccio schifo Ok Ho perso un po' la condizione del tempo Però se non sbaglio Trova Tipo essa è la terza prova O quarta Non mi ricordo Comunque Allora Forse ho capito Sono andato a vedere un video su youtube E forse ho capito cosa sbaglio Cominciamo Non ero pronto Non ero pronto Ok Pronti partenza Via Questa volta Proverò Proverò A distruggere Un po' di blocchi Cercando di stare sul letto Cioè Cercando di fare Esplodere Il letto E Devo cercare di non morire Prendendo meno danno possibile Se no Devo fare più attenzione dopo Perché non capisco Io faccio bene il portale Ma non capisco Cosa sbagli Allora Ecco qua Pam Pam Io questa la distruggo La metto qui Uno due Tac Tac Pam Tac Questo buttiamo via Il piccone mi serve qua Avrei dovuto sistemarlo prima Ma Chi se ne frega Ok Siamo a un minuto e sette secondi Ok Ora ecco Devo prendere danno E sto prendendo danno Ok No 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 Dovete lasciarmi in pace Sono sicuro che ci sono modi migliori di superare Il percorso qui Ma Provo a fare quello che riesco Vado qua 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 Etoricamente se scavo qua Tipo Sporgo sto qua Faccio Piazzo il letto qua E faccio Tipo così Stop Eppure quello che l'ha fatto il video ci è riuscito Ha fatto tipo quello che ho fatto io Vabbè Non so cosa ho sbagliato Comunque Ho fatto due minuti e venti secondi solamente nel terzo Cioè Non mi ricordo qual è Adesso abbiamo l'ultimo da fare ragazzi Spero che Spero di riuscirci Dai almeno l'ultimo Allora ragazzi eccoci nell'ultima prova Vediamo se riesco a superarla Pronti Portanza Via Non so proprio dove Ecco Ho già perso secondi Cerca di prendere il primo letto Non so proprio dove sbaglio Mi manca sempre un blocco Cioè mi ricordo che il portale Se faceva 3 sopra 3 sotto 4 4 al lato Forse era 3 al lato Forse va bene anche 3 al lato Questo qua Quanto è questo portale scusa? Ecco Prendiamo la cesta qua Tac 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 Io prendo l'armatura perché sono Ho dimenticato Ho dimenticato Non ci credo Ho dimenticato di prendere Vabbè visto che qua non ho ancora fatto niente Stop il tempo Rimetto tutta la roba qua a posto Rimetto anche letti a posto Non ci posso chiedere Ho dimenticato Di No l'armatura Ho dimenticato l'armatura Ok rimettiamoci qua Ho messo tutto quanto a posto Non ho più niente Guardate non ho più niente di inventario Pronti Partenza Via Riprendiamo il letto che ho appena Rimpiazzato Questo lo spacchiamo Questo lo prendiamo Tutti 16 pezzi Tac tac Eccolo qui Mi è caduto il ferro Fantastico Perdiamo altro tempo 18 secondi Qui la stopper la porta aperta Ecco qui ho preso 3 secondi Tac 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 Ricoperto i letti Fantastico Ora andiamo lì Andiamo là Sto anche per morire di fame Perfetto direi Top per fine la lava Qui vabbè Ho messo tutto quanto a portata di mano Praticamente Qui siamo pronti a fare Nacciarino Lo accendiamo Vorrei evitare di spiegare questo blocco Ma non ne vedo Come posso farlo 1 minuto e 10 secondi Io non posso pretendere Di superare il record Oltre Meno di 3 minuti Perché non l'ho mai fatto Non ci sono mai riuscito Durante le prove Non mi sono mai Non ho registrato Cioè non mi sono mai Cronometrato Quindi E il fatto che abbia fame Potrebbe essere una penalità Per me Quanto ci si ha? Ha 30 utilizzi Ho perso un sacco di Ecco sto per l'altro tramp Ok ci siamo ci siamo Facciamo qua 3 sopra e 3 sotto Sì Ce l'ho fatta Ok ora teoricamente Ha venuto farlo Il portale più basso Sotto un pirla Perché adesso Ho perso Dove perdere tempo A farmi un piccone Piccone visto che ci si Mi faccio anche una pala Cos'è che sto spaccando qua? Perché non riesco Perché si spacco più lentamente? Ah perché il ferro Ok ecco qui Non ho visto il blocco Ok siamo arrivati Siamo arrivati Ecco qua Ecco qua Ecco qua Ecco qua Ecco qua Ora dove devo andare È uscita Dove Dove è uscita Ok ci sono Ci sono Ci sono La particolarità 6 secondi Abbiamo alle scatola Nei prossimi giorni Cercherò di allenarmi Il più possibile Ragazzi spero che il video Vi sia piaciuto lasciate Iscrivetevi al canale Quindi vedete questo video Quello che vi faccio E al prossimo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti